liberamente il podcast di psicologia con storie idee consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più a cura di Matteo Neroni un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast liberamente il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale oggi ragazzi riprendiamo ufficialmente i lavori all'interno di questo podcast con la puntata consueta del lunedì e del venerdì dopo più o meno una settimana e mezzo di pausa perché sono stato totalmente assorbito e impegnato all'interno di uno degli eventi più importanti della psicologia dell'anno sto parlando del festival della psicologia 2019 quinta edizione all'interno della quale il podcast liberamente è stato scelto come media partner ufficiale di questo evento per raccontare l'evento ma soprattutto per intervistare tutti gli oratori più importanti di questo grande festival all'interno del festival si riuniscono infatti i maggiori esponenti della psicologia che si incontrano per discutere un tema specifico il tema di quest'anno era l'identità ma veniamo al cuore un po di questa puntata infatti come hai letto un po in maniera provocatoria dal titolo oggi qui si parla di fallimento parleremo di fallimento che cos'è un fallimento ma soprattutto scopriremo insieme per quale motivo oggi sono qui a raccontarti il mio fallimento scoprire perché il fallimento non esiste eccoci qui allora voglio subito mettere in chiaro una cosa facciamo pace con il cervello quello di cui parleremo oggi è del significato che diamo alla parola fallimento fallimento sì o fallimento no allora secondo me il fallimento non esiste ecco ci tengo subito a dire la mia a chiarire qual è la tesi che porterò avanti durante la puntata di questo podcast secondo me il fallimento non esiste e ti spiegherò all'interno di questo episodio perché secondo me dovremmo tutti far un attimo un passetto indietro quando facciamo qualcosa che non va nella direzione in cui vorremmo e chiamare etichettare quello accaduto come un fallimento è comprensibile che se stai comunque reagendo davanti a questo titolo con un po di scetticismo e anche magari con un po di fastidio è normale magari nella tua vita hai vissuto diversi fallimenti no dice ma matteo ma allora come lo chiami no quando quel esame andato male no non ho superato un esame all'università a cui tenevo e quello non è un fallimento oppure mi hanno licenziato al lavoro e quello non lo vuoi chiamare fallimento oppure magari la mia ragazza il mio ragazzo mio marito mia moglie mi ha lasciato quello non è un fallimento relazionale la verità è che ognuno di noi ha sperimentato uno o più sconfitte uno più fallimenti durante il corso della propria vita e si è sentito magari incapace deluso sfiduciato come bloccato nel raggiungere ciò a cui mirava ancora di più perché siamo abituati a identificare il successo invece come il raggiungimento dei risultati che ci siamo prefissati e in un certo senso questo è anche corretto insomma nel diciamo nel gergo comune ma allora che senso ha l'affermazione che oggi ho scelto di dare di inserire all'interno del titolo no il fallimento non esiste per molti anni io personalmente ho vissuto l'esperienza del fallimento a due vie no una cosa o la fai o non la fai o fallisci o riesci cioè non è che ci sono tante vie di mezzo ciò nonostante oggi però ho maturato un pensiero ulteriore che appunto il fallimento non esiste o meglio esiste ma solo nella nostra mente infatti andiamo un attimino a esplorare quelli che sono gli effetti del significato classico che diamo al fallimento sulla nostra mente innanzitutto il fallimento fa sembrare gli obiettivi molto meno raggiungibili no quando falliamo quando ci blocchiamo allora gli obiettivi cominciano a prendere una distanza siderale che ci sembrano quasi irraggiungibili il fallimento infatti distorce la percezione anche delle nostre abilità cioè cominciamo a dubitare del fatto che possiamo raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati che ci siamo prefissati il fallimento può farci credere di essere impotenti cioè una situazione che magari si è complicata talmente tanto che sembrano non avere soluzioni allora cominciamo a sentire anche la frustrazione di magari non poter intervenire per risistemare la situazione che si è complicata le esperienze negative possono creare anche dentro di noi una paura del fallimento inconsapevole no e allora non tentiamo alcune strade proprio per paura di fallire ci tremano le gambe ogni volta che puntiamo a qualcosa di un pochino più in alto no per paura poi di poter fallire la paura del fallimento spesso conduce ad attuare inconsapevolmente comportamenti autosabotanti per cui magari cominciamo a rimandare cominciamo a dare priorità a cose che magari non hanno l'urgenza che pensiamo abbiano in quel momento tutto si diciamo frappone tra noi e l'obiettivo proprio perché la paura del fallimento è così radicata in noi da innescare dei comportamenti autosabotanti proprio per non raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati la paura del fallimento inoltre è trasmissibile è contagiosa lo trasmettiamo anche alle persone che sono intorno a noi se siamo genitori per esempio li trasmettiamo ai nostri figli la risposta psicologicamente più sana però al fallimento è concentrarsi sulle variabili che sono sotto il nostro controllo ecco il principio infatti fondamentale della crescita personale cioè quel processo di evoluzione attraverso il quale raggiungiamo un'aviazione migliore di noi stessi si basa proprio sul fallimento cioè non c'è crescita senza sbaglio senza errore senza fallimento infatti non esistono fallimenti esistono solo risultati e opportunità in altre parole quando commettiamo un errore quella non è l'occasione per bloccarci ma è l'occasione per imparare qualcosa di nuovo magari puoi accorgerti che per esempio ti mancano delle competenze e che puoi acquisire queste competenze magari facendo dei corsi o istruendoti cercando su web informazioni che ti possono essere utile che ti servono o magari potresti accorgerti che qualcosa nel tuo comportamento come dicevamo prima nel tuo mindset cioè nel tuo modo di ragionare di pensare di leggere la realtà si è inceppato e che ti sta impedendo da solo di raggiungere i tuoi obiettivi in altre parole il fallimento deve trasformarsi in una parentesi di riflessione ulteriore una riflessione autocritica sana e onesta che fai su te stesso che ti permetta quindi di non ripetere lo stesso errore in futuro perché diciamo l'errore è il miglior maestro della vita ecco ragazzi questo ci tengo a ripeterlo è l'errore il miglior maestro della tua vita mi spiego meglio raccontando di quello che è successo drammaticamente durante il festival della psicologia allora diciamo che il mio obiettivo come ti ricevo anche prima era quello di portarti all'interno del podcast alcune delle interviste più significative e di maggior valore raccolte durante questo bel evento mi sono preparato circa un numero più o meno di 16 17 interviste sulla psicologia su tantissimi temi importanti a partire dalla mentalità dello sportivo per arrivare alla psicologia e l'alimentazione a tantissimi altri temi davvero molto interessanti anche storie di successo di persone importanti che hanno portato la loro esperienza professionale per aiutare le persone a orientarsi nel mondo del lavoro insomma tantissime interviste di grande valore che poi quando sono andato subito dopo l'evento a post produrre per cercare di estrarre l'audio perché erano delle video interviste mi sono accorto che l'audio era totalmente sballato infatti si sentiva malissimo qualsiasi parola ogni volta che sia io o l'ospite in particolare parlavamo cominciavano a partire tipo delle schicchere elettriche quindi sarebbe diventato impossibile diciamo recuperare questi file per poterli portare all'interno del nostro podcast quindi ragazzi il mio obiettivo che era quello di portare le emozioni e tutta la conoscenza del festival della psicologia 2019 all'interno del nostro podcast è amaramente fallito e che dire quindi cosa cosa si può fare nel momento in cui qualcosa va così storto qualcosa va così lontano da quello che ci siamo prefissati di fare quando ci siamo anche in qualche modo compromessi perché io mi sono compromesso con tutta la community delle menti libere che mi segue all'interno del canale telegram di liberamente promettendo a tutti qualcosa che poi non sono riuscito a realizzare quindi colgo comunque l'occasione per scusarmi con tutta la community delle menti libere e con tutti gli ascoltatori di questo podcast perché non potrò diciamo fare questo e non potrò appunto portare le interviste all'interno di questo podcast ma allora matteo tutta questa bella storia così drammatica tutto questo pathos quali insegnamenti ti ha dato allora la prima cosa che ho fatto è farmi delle domande cioè mi sono accorto che l'emozione della frustrazione non mi stava portando nient'altro che ulteriore frustrazione ho cominciato a giudicarmi a criticarmi a pensare che faccio male quello che porto avanti che questo progetto conta su di me ma poi sul più bello sbaglio ecco cominciato veramente una guerra interiore a un certo punto mi sono fermato ho preso un foglio di carta bianca e ho cominciato a scrivere delle domande che mi sono ritrovato a diciamo di una vecchia puntata del podcast relativa appunto al fallimento e agli errori quindi ho cominciato a fare un'autoterapia personale questi stimoli sono i seguenti cosa ho imparato da tutto ciò allora questo primo stimolo è stato fondamentale perché la cosa più importante che puoi fare quando ti trovi di fronte a un fallimento a un errore a uno sbaglio la cosa più importante che devi fare è capire cosa puoi imparare di nuovo per te quindi cosa ho imparato che un audio ogni volta che viene spostato subisce delle trasformazioni che ne peggiorano il suono ecco questo è un grande insegnamento per me perché anche se faccio podcast da quasi 100 puntate ragazzi stiamo per celebrare quasi 100 puntate mi sembra mi sembra quasi un un sogno per me è una grande emozione ho capito che da un punto di vista tecnico questo aspetto dell'audio è fondamentale il secondo stimolo come posso adesso trasformare quello che mi è accaduto in un'opportunità per crescere come persona infatti mi sono accorto che questo fallimento mi stava dando l'occasione per essere una persona migliore l'opportunità di crescere in prima di tutto come persona infatti davanti a me c'era un bivio da una parte o continuavo a criticarmi e quindi ad essere una persona che non accetta il proprio sbaglio non accetta il proprio errore oppure dall'altra parte cominciare a coltivare in me un senso di generosità verso me stesso la capacità di essere flessibile di anche accettarmi quando faccio uno sbaglio o un errore quindi questa è la grande opportunità di crescita personale che ogni errore ogni fallimento ci pone di fronte a noi inoltre sento di poter migliorare anche come podcaster perché se voglio portare avanti questo progetto e lo voglio fare in maniera seria allora forse è arrivato il momento per me di fare un piccolo salto di qualità quindi migliorare crescere come persona e come podcaster il terzo ultimo stimolo diciamo utile per affrontare un fallimento è cosa di nuovo posso fare ecco da una situazione che sembra bloccata bisogna orientare la nostra mente verso una soluzione alternativa quello che ho capito è che l'audio delle interviste ok non può essere utilizzato è troppo danneggiato e quindi non le posso utilizzare all'interno del podcast ma le ho fatte io quelle interviste sono io che ho stretto la mano dei migliori esperti del festival sono sempre io che ho i loro contatti personali salvati sul telefonino sono sempre io che ho stretto una relazione personale con loro quindi quello che mi son detto è che anziché aver perso tutto e quindi entrare nella catastrofismo del fallimento e quindi della distorsione come dicevamo prima della realtà quello che ho capito è che posso ricontattarli per coinvolgerli di nuovo nelle interviste di approfondimento tematico che faccio insieme a tutte le menti libere che sono iscritte al canale telegram e quindi guadagnare ancora più valore guadagnare ancora più in qualche modo più contenuti per tutta la community delle menti libere quindi molto di più di quello che avrei guadagnato con le interviste del festival insomma un po come è successo al celebre thomas edison che dopo 10.000 tentativi prima di accendere la prima lampadina della storia disse di non aver fallito ma di aver soltanto trovato 10.000 modi per non fare una lampadina oppure celebrando il celebre giocatore di basket dell'nba degli anni 90 michael jordan che disse al termine della sua carriera di aver sbagliato più di 9.000 tiri perso quasi 300 partite stiamo parlando ragazzi di un campione del mondo di michael jordan insomma disse che proprio la sua carriera si era fondata su quei fallimenti su quegli errori su quegli sbagli quindi il concetto che ci portiamo dentro di fallimento non esiste esiste solo nella nostra testa e si concretizza quando smettiamo di cogliere nello sbaglio le opportunità che ci si presentano allora tutto ciò che chiamiamo fallimento in realtà fa parte della tua e della mia esperienza un'esperienza preziosa che possiamo tenere nel nostro zaino che ci portiamo sempre a presso ogni volta che giriamo per il mondo e diventa l'opportunità per capire per capire meglio noi stessi se il nostro comportamento se le nostre strategie sono funzionali all'obiettivo o se possono essere corrette ogni volta che cadiamo ragazzi raccogliamo qualcosa ecco non facciamo l'errore di restare sdraiati e annientati per terra ogni risultato serve per imparare qualcosa di nuovo e per migliorarci di fronte quindi a un esame non superato al licenziamento o a un uomo una donna che non ci si fila a delle interviste per il podcast che non riescono siamo liberi di decidere cosa fare considerarci dei falliti oppure appellarci alle nostre migliori risorse per liberare la nostra mente le nostre azioni e volare più alto decidere se restare bloccati e autocommisorarci oppure dare una nuova cornice agli eventi acquisire una visione diversa delle cose perché non esiste nulla di buono o di cattivo in sé è il pensiero che lo rende tale tutto ciò che facciamo quindi ragazzi produce dei risultati e ogni risultato è un successo è un successo quando noi permettiamo che sia tale adottare questa filosofia inizialmente è difficile ma non è impossibile te lo garantisco personalmente aiuta a vivere meglio assolutamente sì allora perché non provare a farlo eccoci qui ragazzi anche oggi siamo arrivati al termine di questo episodio e per racchiudere un pochino tirare le fila del tema di oggi del fallimento ricordiamoci che il fallimento non esiste ma è una costruzione della nostra mente infatti il fallimento è solo una fase una fase di un percorso più lungo e quindi non possiamo lasciarci bloccare dai nostri errori ma possiamo utilizzarli come spunto di riflessione come opportunità di crescita e di miglioramento personale prima di salutarci però lasciatemi ringraziare tutti i finanziatori del progetto liberamente che anche solo con un euro al mese con un dollaro scusate al mese contribuiscono a questo progetto e gli permettono di continuare a crescere e ad espandersi quindi un grazie speciale va ad Alessia Cecconi ad Antonio Andriollo a Carmelo Conti a Deborah Fontana ad Elena Giurlando a Fabio Giuliani a Fabrizio a Filippo Labruna a Francesco Maggioni ad Antonella Guerra a Mauro Catini a Sanjo e a Waco che si sono uniti alla community dei finanziatori se anche tu vuoi far parte di questo progetto in maniera attiva e vuoi sostenere questo progetto anche quando fallisce come è capitato in questo in questo periodo non devi far altro che andare nelle note di questo episodio troverai il link per accedere alla pagina Patreon e da lì scegliere il tipo di finanziamento che pensi vada bene per te io vi mando un grande abbraccio ragazzi e vi do appuntamento alla prossima puntata sempre qui su Liberamente Liberamente il podcast di psicologia con storie idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più a cura di Matteo Neroni e e e e e e e Grazie a tutti